Tra pochissimo a Telebelluno, una nuova settimana in compagnia dell'Ipsar. Oggi parleremo di... Sole! Tra poco. Buona visione da... Con Rinovacasa sei ancora in tempo ad approfittare della detrazione fiscale su porte e finestre internorma. Scopri come a Miss di Sospirolo e su rinnovacasa.com Ti aspettiamo anche a costruire. Buon lunedì, buon inizio settimana, benvenuti al nostro programma quotidiano la striscia che è dedicata alla cucina ma dalla scuola alberghiera di Longarone questa settimana anche con la parte riservata alla sala e al bar. Professoressa D'Aipra, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovata a distanza di un anno nuovamente con gli studenti che per fortuna sono cambiati. Decisamente, alcuni sono cambiati e alcuni invece sono rimasti perché sono presi da questa attività e quindi si sono riproposti. Ok, oggi che cosa prepariamo? Un club campari cocktail. Ingredienti? 6 cl di bitter campari, mezzo lime e del zucchero di canna. Vediamo come si prepara. Allora, si prende il bicchiere, un high bowl, si mette il lime, si aggiunge lo zucchero di canna e si va a pestare il tutto. Quest'anno, dicevamo, nella settimana di apertura avete sfondato le 400 iscrizioni. Decisamente siamo in crescita. Sia per quanto riguarda la cucina che ormai è presente in tutti i palinsesti televisivi ma anche per quanto riguarda la sala bar. Anche la sala abbiamo avuto un aumento e proprio perché sta attirando determinate attività quali il bar per eccellenza. Poi i ragazzi che escono e conseguono il diploma, ce ne sono tanti che aprono attività, che rilevano le attività dei genitori. Perché il nostro diploma permette di aprire direttamente l'attività e quindi poi fare l'attività che a loro piace e che ha studiato tra l'altro. Perfetto, allora vediamo il passaggio. Allora, il passaggio ha aggiunto del ghiaccio pilè e adesso sta aggiungendo del bitter campari che andrà a mescolare col bar spoon. Eventualmente ci sono anche le puntate in archivio di Benvenuti a Tavola in cui proprio la professoressa ci ha spiegato qual è la dotazione base per imparare a fare qualche cocktail a casa. Questo in particolar modo prima o dopo durante la cena? Questo è un pre-dinner, quindi prima dei pasti perché ovviamente contiene il bitter campari che funge da aperitivo. Ecco la decorazione con la fragola. Perfetto. E adesso è finito. Meraviglioso. Allora, se vuoi guardare la telecamera e dire benvenuti a tavola. Benvenuti a tavola. E noi ci rivediamo domani puntuali alla stessa ora.